I quartieri, il mercato, gli spettacoli, gli sbandieratori, le gare di tiro con l'arco, staffetta, tiro alla fune e la corsa dei cavalli. È il palio di feltre che tornerà a colorare le vie del centro storico il 2, 3 e 4 agosto per l'edizione numero 45 dell'evento che dal 1979 rievoca la suggestiva atmosfera quattrocentesca, cornice degli accadimenti storici che segnarono il passaggio della città murata sotto il dominio della Serenissima e proprio nella città della Laguna, oggi a 620 anni di distanza, la presentazione ufficiale a Palazzo Ferrofini alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Feltre in particolar modo veramente fa parte ormai della città, 45 edizioni vissute veramente dai cittadini e che hanno animato anche fra contrade un giusto spirito, chiamiamolo anche di competizione. Fa ritornare indietro nel tempo una città e quindi fa anche dare poi quello che è quel forte senso di appartenenza alla città stessa in un momento di condivisione importante. Quattro quartieri, più di mille volontari, 800 figuranti, 23.500 presenze registrate nel 2023 per una manifestazione che per quanto competitiva è elemento di aggregazione imprescindibile per la città. Sono numeri straordinari e rappresentano una grande risorsa. I quartieri rappresentano soprattutto una comunità educante, trasmettono ai giovani quei valori quali è l'aggregazione, lo star bene insieme e l'amicizia che poi sono dei valori che vivono durante il paglio ma poi ti accompagnano per tutta la vita. È un grande volano ma soprattutto è una grande festa per la città e per il territorio, noi l'abbiamo sempre intesa così. Nasce dalla comunità e poi si apre ai turisti, ai visitatori che da fuori Feltre arrivano in città per questo momento di esaltazione sportiva ma anche di approfondimento storico, culturale. Un evento che anche quest'anno Antenna 3 trasmetterà in diretta in occasione delle gare del tiro alla fune della Corsa dei Cavalli. L'appuntamento sulla nostra emittente è alle 15.30 di domenica 4 agosto per vivere assieme tutte le emozioni della storia e delle tradizioni del paglio di Feltre.